Il talpone doveva giungere, un antieroe diabolico dalla pelliccia caprina, un sovrano che seguiva Giovanni Plantageneto, XIII secolo, come sesto nella successione. Inizialmente amato dai suoi sudditi, cadde poi vittima del peccato e dell'orgoglio, trascorrendo il resto dei suoi giorni fra lotte, tribolazioni e gravi conflitti. Punizione divina lo colpì con una guerra fatale, portando alla distruzione del suo regno. Fra le rovine dei castelli e i fiumi rossi di sangue dei suoi soldati, il talpone fuggì vilmente, trascorrendo il resto della sua vita in esilio. Così recitava un'antica profezia, che nel XVI secolo il popolo inglese interpretò riferendola al suo re, Enrico VIII. Non importava che fosse effettivamente il XII re dopo Giovanni e che non avesse alcuna caratteristica caprina. Era comunque considerato un despota sanguinario, responsabile dello scisma dalla Chiesa di Roma, nonché assassino di moglie cattolici, severo con chiunque dissentisse da lui. Era il simbolo del potere assoluto che contraddistinse le monarchie del passato. Fino a quando la propaganda di regime perdurò, gli studiosi tendevano a giustificarlo, riconoscendo la sua ferocia ma sottolineando la sua liberazione dalla Chiesa romana, che rispecchiava i desideri del popolo. Studi più recenti, privi di pregiudizi ideologici, hanno però rivelato che gli inglesi non accettarono la sua autorità e opposero una forte resistenza alla sua politica. Enrico riuscì a imporsi solo con terrore e inganni, lasciando un'impronta indelebile sulla storia inglese. Una macchia di sangue e tirannia, come la definì tre secoli dopo il romanziere inglese Charles Dickens. Eppure, nel 1509, era stato acclamato come il più bel sovrano d'Europa, proprio come il talpone. Al suo fianco, la vedova di suo fratello, Caterina d'Aragona, si era risposata con una dispensa papale, giustificando che il loro matrimonio precedente non fosse mai stato consumato. Una problematica che non si ripresentò con Enrico, poiché i Tudor, di origini gallesi e non nobili, erano una dinastia giovane e poco consolidata. Per consolidare il suo potere, Enrico aveva bisogno di eredi maschi. Nonostante i suoi sforzi e numerose gravidanze, in nove anni riuscì a generare solo una figlia sopravvissuta, Maria, la futura sovrana sanguinaria. Enrico si domandava se vi fosse un segno divino dietro ciò, preoccupato che la sua unione con la cognata avesse attirato l'ira di Dio su di lui. I ripensamenti teologici tardivi divennero una questione urgente solo quando fece la sua comparsa l'affascinante e giovane Anna Bolena nel 1526. Il re, innamorato dei suoi occhi scuri, pensò «Sicuramente lei mi darà un'erede». Ma c'era un ostacolo. Caterina. Aveva tollerato le scappatelle del marito, ma si oppose fermamente alla richiesta di annullamento, sostenendo che la dispensa di Giulio II confermava la validità del loro matrimonio. La decisione passò quindi a Papa Clemente VII, il quale scelse di non prendere una decisione, motivato più da interessi politici che religiosi. Caterina d'Aragona era zia di Carlo V e Clemente non voleva compromettere gli equilibri europei né scontentare il re di Spagna, anche imperatore del sacro romano impero. Fu in questo momento che Enrico cominciò a perdere il suo giovane aplomb e a trasformarsi nel noto e corpulento barbablu, divoratore di mogli e papi. La scoperta di non essere onnipotente scatenò la sua furia. Forse per la prima volta si scontrò con una realtà che non poteva cambiare. Enrico non era diverso da molti altri principi, abituato a ottenere ciò che voleva con la forza. Fu magnanimo, generoso, allegro, finché tutto andò per il verso giusto. Ma poi ritornò il bambino viziato che era, con in più il potere di decidere la vita e la morte dei suoi sudditi. Grazie all'influenza di un nuovo consigliere diabolico, Thomas Cromwell, e di un parlamento tanto spaventato quanto accondiscendente, Enrico mostrò i muscoli con una serie di leggi dirette apertamente contro il potere del pontefice e della chiesa di Roma in Inghilterra. Niente più entrate per il papa dalle terre inglesi. Nessuna legge papale applicabile ai suoi sudditi, nessuna nomina senza il suo consenso. Con astuzia, Enrico riuscì a fare di Thomas Cranmer, un arcivescovo anticlericale, il nuovo primato di Canterbury, e a ottenere da lui l'annullamento tanto desiderato. Anna, con cui si era sposato segretamente all'inizio del 1533, partecipò all'incoronazione mostrando i primi segni di gravidanza della figlia che sarebbe sopravvissuta, Elisabetta. Il pontefice, come risposta, utilizzò la sua arma più potente, scomunicò il re e tutta l'Inghilterra. Enrico perse definitivamente la pazienza. Con l'Act of Supremacy, atto di supremazia, si proclamò l'unico capo supremo della chiesa d'Inghilterra. Lo scisma era consumato. Un gesto dettato più dall'amore per il potere che per altro, poiché Enrico si rese conto del rafforzamento della monarchia grazie alla presenza di una chiesa nazionale inglese sotto il suo controllo. Coloro che rifiutarono di riconoscere l'autorità di Enrico VIII pagarono un prezzo elevato. Non solo umili monaci squartati vivi, impiccati o lasciati morire di inedia incatenati in piedi, ma anche il fidato Lord Cancelliere Thomas More e il vecchio vescovo John Fisher, che avevano condannato l'annullamento del matrimonio. Ogni forma di dissenso verso il re era considerata alto tradimento e per questo migliaia di sudditi, uomini e donne, poveri e nobili, furono puniti con brutali torture ed esecuzioni. Enrico costruì gradualmente il suo regime, ubriacandosi del potere che gradualmente acquisiva, e Cromwell accondiscese alla sua megalomania. Fu Cromwell a suggerire al re di dissolvere i monasteri per confiscarne i beni e diventare il sovrano più ricco del mondo. Fra il 1536 e il 1540, intere comunità religiose videro il loro destino segnato, con le loro dimore saccheggiate e distrutte. Enrico non risparmiò nemmeno i santi. Nel 1538, a Canterbury, saccheggiò la tomba del martire cristiano Thomas Beckett, meta di migliaia di pellegrini, appropriandosi del tesoro accumulato in quasi quattro secoli. La seconda scomunica non lo scosse. A 47 anni, afflitto da ulcere purulente e maleodoranti alle gambe, era ormai precipitato in un abisso di aggressività imprevedibile e diffidenza. A posteriori, il suo comportamento estremo ha portato alcuni ricercatori a ipotizzare che Enrico VIII potesse soffrire della sindrome di MacLeod, una rara malattia genetica che potrebbe spiegare sia il deterioramento psicofisico di Enrico, sia i ripetuti aborti delle sue consorti. Altri invece suggeriscono che il suo comportamento fu influenzato da lesioni cerebrali subite in almeno tre occasioni, la più grave delle quali avvenne nel 1536 quando cadde da cavallo e rimase privo di sensi per due ore. È da questo momento che sembra abbiano avuto inizio i suoi sbalzi d'umore e gli attacchi di rabbia incontrollata che portarono alla morte della sua seconda moglie. All'epoca, se un sovrano si stancava della moglie, cercava un pretesto per far dichiarare nullo il matrimonio dal papa. Enrico tentò di farlo con Caterina e inizialmente ciò non destò particolare allarme. Ma da quel momento in poi la situazione peggiorò progressivamente. Per liberarsi di Anna Bolena non si limitò all'annullamento, ma la fece giustiziare con false accuse. Subito dopo la morte di Anna, Enrico sposò Jane Seymour, una donna nota per la sua quiete. Ma anche questa volta la tragedia colpì la loro unione quando Jane morì di infezione nel 1537, poco dopo aver dato alla luce il tanto atteso, ma fragile, erede maschio, il futuro Edoardo VI. Questo sarebbe stato l'ultimo figlio del re. Dopo il divorzio da Caterina, la decapitazione di Anna e la morte di Jane, i principi europei erano riluttanti ad affidare le loro figlie e sorelle a Enrico VIII. Si dice che il re di Francia abbia rifiutato categoricamente di dargli in matrimonio persino il suo cane. Nonostante ciò, nel 1540, Cromwell trovò per Enrico una nuova moglie politicamente conveniente in Anna di Cleve, proveniente dalla Renania. La delusione di Enrico per l'aspetto di Anna fu così grande che il matrimonio venne annullato dopo soli sei mesi. Anna ricevette in cambio una rendita e varie proprietà, mentre Cromwell pagò con la vita, venendo decapitato il giorno del quinto matrimonio reale. La nuova sposa di Enrico, Catherine Howard, cugina di Anna Bolena, fu descritta come una rosa rosseggiante senza spine. Quando Enrico scoprì che non era l'unico ad aver avuto relazioni extraconiugali, fece fare a lei la stessa fine della sua celebre parente. Si sposò di nuovo nel 1543, continuando a macchiarsi le mani di sangue, sperperando le ricchezze del regno in guerre e contribuendo al declino artistico, culturale e religioso attraverso la dissoluzione dei monasteri. Alla sua morte, il 28 gennaio 1547, devastato nel corpo e nella mente, Enrico VIII non fu pianto. Era stato sconfitto nella sua fatale guerra contro se stesso.